Oltre 450 cittadini stranieri si sono rivolti dai primi di giugno allo sportello per l'integrazione, la cui gestione è stata affidata dal Comune di Arezzo con un contratto di servizio alla Fraternita dei Laici. Fraternita si è riposizionata in maniera rivoluzionaria rispetto al sociale e stamattina abbiamo presentato l'impegno di Fraternita per i nuovi aretini, quindi per la parte dedicata a chi arriva nella nostra città e ha i diritti e i doveri e attraverso Fraternita sarà chiarito il diritto e il dovere. I servizi che venivano svolti prima da Oxfam alla Casa delle Culture sono infatti passati nelle mani della Fraternita che dal primo ottobre scorso ha interrotto anche l'attività di accoglienza migranti. Non assistiamo più direttamente gli estracomunitari, i migranti, però assistiamo costantemente tutte le persone, a retini ovviamente complessi, in questo percorso di tutela sociale. Nei servizi che facciamo giù all'ex Casa delle Culture, nella piazza Fanfani, noi abbiamo anche la scuola di italiano, abbiamo la scuola anche di educazione civica, abbiamo il doposcuola, abbiamo cioè tutta la serie di attività che venivano svolte nei mesi passati e, ripeto, non c'è stata alcuna osservazione da parte di nessuno. Entro la fine dell'anno vedranno alla luce infine due nuovi progetti portati avanti dalla Fraternita. Riguardano i minori e quindi una struttura, una casa famiglia che sarà loro dedicata e che sarà appunto arricchita con tecnici specializzati, operatori di servizio e che in un certo senso salvaguarderà i minori per un possibile cammino non corretto, non salutare e li indirizzerà verso o un passaggio scolastico conseguente alle scuole medie oppure un approccio direttamente lavorativo. L'altro progetto è quello appunto di un'accoglienza per donne che hanno sole, che hanno dei figli. Entro l'anno definiremo sia la parte tecnica soprattutto la parte strutturale dove mettere appunto i minori e quindi partiamo alla grande poi dal primo dell'anno saremo già operativi. Le sedi saranno rispettivamente quella dell'ex RSA di Mugliano e del Palazzone di Fraternita di Via di Casoli.